in relazione alla mole di gioco che sviluppano e questo condiziona psicologicamente i giocatori in campo Young che serve poi, P.D. Clark che mette dentro i suoi primi tre punti di partita più velocità nelle transizioni e poi non ci siamo in difesa, soffriamo troppo sotto canestra e soprattutto stanno perdendo troppi palloni semplici anche in questo caso il passaggio, lo scarico di Antoine Robinson è stato letto dalla difesa di Venezia palla a canestro adesso, scontro trappesi massimi però Williams è bravo nello scarico per Clark che va a tirare dalla grande distanza e arriveranno scavalcando Venezia che praticamente nel secondo quarto non è quasi entrato in campo, Clark adesso a muovere il punteggio Sì abbiamo perso l'inizio della partita, non dobbiamo per forza andare subito a canestro più calma e dobbiamo usare più la nostra fisicità ed ecco perché è entrato Marco Nato, a te la linea Ugo Adesso sì, Marco Nato che va a prendersi cura tra virgolette di Antoine Robinson, Clark cerca di bruciare sul primo passo Fulz poi mentre scorrevano i secondi va ad inventare un canestro molto complicato per la gestione dell'equilibrio sono i suoi punti forse più importanti fino ad ora arriva quota 12 ma soprattutto cerca di riportare in partita intanto grande difesa da parte di Brindisi ma Clark legge bene e riesce a trovarsi un tiro che ricaccia indietro i brindisini Gibson che forza la penetrazione cercando di sfruttare al massimo il tardivo rientro di una parte della difesa di Venezia Diavara che suggeriva il passaggio largo poi Clark preferisce andare nel Bauer's Chelsea ancora Clark nell'angolo con Diavara che aveva fatto un buon screen e Clark colpisce massimo vantaggio per Venezia Enel Brindisi ha sicuramente giocato la sua partita con grande energia Venezia ha messo in campo una prestazione in cui ha dimostrato tutto quello che sulla carta si poteva immaginare all'avvio del campionato tre punti alla fine anche per Clark punteggio che sta diventando un po' severo sicuramente severo nei confronti della formazione di casa